Ci si può proteggere dalla febbre dengue? Come e soprattutto qual è l'iniziativa delle farmacie comunali? L'iniziativa delle farmacie comunali come in qualità di vicepresidente ficario dove di farmacentro abbiamo voluto aderire essendo presente anche nel consiglio di FM Arezzo permettendo la possibilità, quindi dando la possibilità ai pazienti di poter fare una visita di prevenzione. Abbiamo la possibilità nella farmacia Campo di Marte di eseguire un test sierologico nel quale è possibile valutare se il soggetto effetto da febbre potrebbe aver contratto la dengue. La dengue viene trasmessa dalla zanzara, la zanzara femmina, la trasmissione 3-14 giorni, il tempo di incubazione. Quindi è possibile recandoci presso la nostra farmacia fare una valutazione con un test sierologico per poter così osservare se effettivamente abbiamo contratto questo tipo di malattia che è presente in circa su 110 paesi attualmente nel mondo. Ecco, però diciamo che ci deve essere il sintomo della febbre e magari il rientro anche di un viaggio all'estero dove questa malattia magari è endemica. Assolutamente, cioè la misurazione altrimenti rischiamo il fatto di fare un test sierologico riguardo all'influenza attuale, ovviamente rientrato da un viaggio tropicale, un viaggio sicuramente anche di lavoro e avendo una sintomatologia tipica è possibile recandosi presso la nostra farmacia di fare una valutazione se eventualmente abbiamo contratto questa patologia infettiva.